Bella a tutti ragazzi, sono il Mirko della Degrado Family e oggi vediamo la decklist di Queen, richiestissima da voi. Allora, Queen intanto come leader è un mazzo molto da late game, molto avanti nel match, resiste molto bene e fa bene. Adesso sinceramente con una nuova ban ed è anche molto forte. Il problema di questo mazzo è il tempo, infatti nei tornei ufficiali che ci sarà il tempo, il vostro avversario vedrà che giocate Queen e giocherà molto lento e tutto, quindi diciamo che il tempo non gioca molto a favore di Queen nel regolamento, ecco. Comunque questo leader quando ha un don assegnato e attacca, se avete un totale di 4 carte sommando le vite e le carte in mano, quindi come potete immaginare gioca con poche carte in mano e con poche vite, potete pescare una carta e se avete un costo 8 superiore in campo, invece che pescare la carta prendete la prima carta del mazzo e la mettete come vita, quindi vi permetto di resistere molto bene. Infatti è un mazzo composto da molti blocker e molti pezzi grossi. Allora io personalmente lo gioco così, gioco il 2x di Pound, Pound è un blocker e anche io potete scegliere un personaggio di costo 3 o meno e rimetterlo nelle vite dell'avversario a faccia in su. Non ne gioco 4 perché secondo me 4 sono veramente tante, poi vedete un po' voi come gestirvele. Poi gioco 4x di Boa e vi faccio vedere insieme il 4x di Brulè, fanno la stessa cosa, sono semplicemente dei blocker, 3.000 e quando vengono triggerate li potete giocare, quindi tanto buono. Poi altro blocker è il Doflamingo, il nostro Doflaminghino ben conosciuto, che vi permette di guardare le prime 5 carte e di mettere nell'ordine che volete. Ottimo per cercare gli eventi o i grossi, comunque per sistemarvi la mano che vedremo dopo. Alcuni giocano anche Perona, ma io sinceramente non ne trovo lo spazio, quindi non ce l'ho nella lista, ve l'ho già spoilerato. Poi come ultimo blocker gioco il 4x di Sanji, Sanji è carta fortissima, quando viene presa dalle vite come trigger potete scartare una carta e giocarla, quindi questo qui è veramente ottimo, poi vi aiuta anche ad attaccare verso la fine se vi serve come attacco finale. Queen è molto scomodo da giocarci contro, infatti è molto imprevedibile. Poi passiamo ai counter 2000, perché ci sono molti trigger. Abbiamo il 4x di Capone Gag Benj, fortissimo, nulla da dire, un counter 2000 è triggerato, non permette di salvarvi praticamente. Poi 3x di Kaia, si potrebbero giocare anche 4, ma io mi trovo meglio con 3. Poi volendo il prossimo è Sasaki, si può sempre fare al posto del quarto Sasaki un'altra Kaia. E questi qua sono i counter 2000 che gioco io. Tanti c'è Trinchi che mi dà i 3000, perché dopo vi devo spiegare delle cose. Poi, allora, iniziamo con i pezzi grossi, dopo il 2x di Sogking, secondo me il 2x è abbastanza. Questo qui, vabbè, vi permette di sistemarvi un po' la mano, ed è anche per quello che non gioco 4 Kaia, ma 3. e in più vi fa rimbalzare un costo 6 o meno dell'avversario. Quindi questo qui è veramente forte, poi se non vi serve altri ha il counter, che è una cosa rara in questo mazzo. Poi, di pezzi ancora più grossi, gioco. 3x di Katakuri. Katakuri, allora, 4x. Alcuni giocano a 4, secondo me è un po' troppo, anche perché io gioco il Kaido 10, che alcuni non giocano. E' veramente molto forte Katakuri, perché vi permette di rimettere i vostri blocker, o magari avete attaccato con Sanji, lo giocate, vi rimettete Sanji nelle vite, e vi permette di resistere ancora di più, e in più il turno dopo volendo di giocare quel Sanji, e avete anche attaccato mettendo pressione. Perché comunque il problema principale di Queen è il tempo. Infatti uno che gioca Queen deve essere bravo a giocare veloce, almeno nel suo turno, in modo tale che l'avversario si possa temporeggiare, ma almeno tu non temporeggi contro te stesso. Ecco, non so se mi sono spiegato. Comunque chi gioca Queen ha capito cosa intendo. Poi, gioco il 4x di Yamato. Yamato è anche questa carta fortissima che abbiamo imparato ad apprezzare in questa nuova espansione. Ne gioco 4 perché sono veramente forti. On play, potete spaccare un personaggio di costo pari o inferiore al numero delle vite vostre dell'avversario. Quindi molto spesso questo mazzo, essendo che comunque Katakuri rimette nelle vite, anche volentieri anche i pezzi dell'avversario, a differenza di Katakuri, degli altri mazzi gialli che si tende a mettere solo i propri, in questo mazzo si tende di più anche a mettere gli altri pezzi scomodi dell'avversario. Questa Yamato vi permette di spaccare anche costi alti, e in più se avete una carta o meno nelle vite, cosa che succede sempre, vi permette anche di aggiungervi una vita, quindi tanta roba. Poi gioco il 2 Miok e 2 Kaido blu da 10. Allora, questo è una scelta un po' particolare, però secondo me il totale deve essere 4. Quindi potete giocare 4 Miok, oppure 3 Miok e un Kaido 10. Il Miok è più forte in questo mazzo. Il Kaido 10, secondo me è buono, perché comunque costi 8, se no non avete modo di mandarli via, e non saprei, secondo me ragazzi è molto forte Kaido, quindi vedete voi, io personalmente lo gioco. E questi qui erano i grossi. Ora passiamo agli eventi, il motivo per cui poi Trinkie mi ha allungato i 3000, perché io gioco 2-3000, 4 Red Rock, e per sopravvivere un po', 2 Gangnam Rain. Allora, questi, 4 Red Rock, vabbè, è fondamentale, perché vi aiuta a levarvi i pezzi, che se no non potreste levarvi. Non so, per esempio, contro Doflamingo, quello da costo 10, lo usate contro, Big Mom da 10, le levate da 10, il Kuzan 10, e molti altri, che danno molto fastidio a questo mazzo, altri grossi, altri pezzi grossi, o comunque vorrendo anche di Mirror Match, è veramente molto utile. Le Gangnam Rain, io le ho messe, perché comunque molto spesso vi capita, di avere troppe carte in mano, e non riuscire ad attivare l'effetto di Queen, quindi vi aiutano a scartare, quindi io lo consiglio, insomma. Poi 3000, io ne gioco 2, però volendo, se ne potrebbero giocare, anche 4, provando a levare, magari qualche, o i 2 Pound, quelli che vi ho fatto vedere all'inizio, oppure, volendo giocare a meno, magari Doflamingo, levando qualche Counter 2000, vedete un po' voi, per me gli eventi vanno bene così. Potete anche pensare, di levare Gangnam Rain, e mettere al loro posto i 3000, però non lo so, io mi trovo bene così. Poi i 3000, sì, sono molto forti, però non levano, dei pezzi troppo impegnativi, anche se in realtà, in questo, cioè, non so, il 3000 è molto buono, per esempio, per quando siete a 4, se avete giocato un pezzo 3 scomodo, gli fate questo, oppure siete a 5, li ha giocato la Uta da 4, cioè, è forte contro, in alcune circostanze, però adesso che barba bianca, non si può più usare, non vi aiuta più, a levare il pezzo da 4, che ha giocato lui in curve, e poi usare l'effetto del leader, attaccare, o comunque attaccare di 6 con leader, quindi secondo me, ha perso un po', 3000 in questo matchup, poi, vedete un po' voi, in base a come vi trovate, e così via, e nulla, questo qui, ve lo faccio rivedere al volo, velocemente, qui era il mio mazzo, secondo me, è capone fondamentale, è l'unico Counter 2000 giallo, che gioco, volendo, si potrebbe provare anche a mettere Sanji, però non lo so, secondo me è buono così, ma non lo so, io mi trovo bene con questa lista, ragazzi, poi è vero, non l'ho testato troppissimo, perché è un mazzo che non mi piace, assolutamente da giocare, però devo riconoscerne la potenza, perché comunque è veramente forte, e soprattutto adesso, che hanno levato i rossi, che era il principale problema di questo mazzo, il giallo è diventato molto forte, questo in Mirror Match, se la cava davvero bene, cioè nel senso, non in Mirror Match, nel senso contro altri gialli, nel senso, se voi andate contro un Katakuri giallo, per esempio, qui non si trova molto bene, perché all'inizio è iniziato a prendere, poi magari con questo gli levate il Perospero, e lui ha perso il turno, poi il turno dopo con questo gli levate il Randolph, o l'eventuale Perospero, quello da 6-8000, poi gli usate Red Rock per levare via i suoi Katakuri, oppure gli usate i vostri Katakuri per levare i suoi, è vero, lui vi spaccherà le vite con le Big Man 10, ma comunque aumentandosi le sue vite da solo, aumenterà la potenza di Yamato, e poi voi comunque, cioè se, allora se lui non mette board, se la vostra F6 non mette board, Queen si trova veramente bene, infatti per affrontare al meglio Queen, a parte andare in stratagemmi poco belli, sfruttando il regolamento, che sono metodi un po' che a me fanno un po' schifo, e il trucco è giocare tanti pezzi, che riescono ad infliggere tanti danni, e attaccare sempre dietro, fregandosene dei pezzi grossi, contro Queen dovete ragazzi attaccare sempre dietro, ricordatevelo, e chi gioca Queen deve stare attento, a non lasciare troppi pezzi nel campo dell'avversario, perché è quella la vera paura di Queen, perché Queen avrà sempre una vita, quindi dovrà subire due attacchi, ed è anche per questo che giochi Reign, perché magari uno aveva due carte in mano, non se l'aspetta, fa tacco 7, e dice ok me lo dovrà canterare scartando 2, ma dopo è, poi in realtà magari te lo prendi, e il turno dopo lo riesci a canterare di più di 9, magari l'avversario non se lo aspetta, comunque ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa lista, io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di mettere un bel like, ringrazio tutti per il supporto, che state dando alla serie di One Piece, e mi raccomando, andate nei link in descrizione, dove c'è anche il gruppo Telegram, dove ci sono anche le anteprime dei contenuti, e niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.